Vogue 2015, giorno 25, ultima settimana! YEEE! Tutta in discesa! No, non è vero, in questo momento sono in salita, ma tutta in discesa! Allora, l'argomento di oggi è la serie tv che ti incolla al divano, e no! La mia serie tv preferita non mi incolla al divano, mi ci cementa, mi lascia lì con il pronta presa, non mi sposto più. Lui è extraterrestre, lui ha più di mille anni, lui è in grado di viaggiare nello spazio, ma anche nel tempo, la sua nave spaziale dentro è comodissima, perché è letteralmente infinita e fuori è molto comoda da parcheggiare, perché occupa appena lo spazio di una piccola cabina telefonica blu della Polizia Britannica. Lui è il dottore, il Dr. Who, e io sono Wovian! Bene, questa è la mia serie che mi lascia piantumato sul divano. Qual è la vostra? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, e come sempre ricordatevi pollice in alto, condividi e iscrivetevi al canale. Io sono Grizzly, questo è Voga 2015, giorno 25, e noi ci vediamo domani col prossimo vlog. Ciao a tutti!